Non è nelle stelle che è conservato il nostro destino, ma in noi stessi. Uomini forti, destini forti. Uomini deboli, destini deboli. Non c'è altra strada. Che bravo! Questa è la fatti giro in mondo? Uomini forti, destini forti. Uomini deboli, destini deboli. Non c'è altra strada. Uomini forti, destini forti. Uomini deboli, destini deboli. Non c'è altra strada. Strong men, strong destinies. Weak men, weak destinies. There is no other way. Los hombres fuertes, destinos hombres fuertes y débiles. Destinos débiles. No hay otra manera. Chiangzong de nanren, minhun chiang. Ruo de nanren, ruo de minhun. Yoméio città fanfa. Fortes fortunam fortis infirmi fragilem erum. Sic non è staglius. Uomini forti, destini forti, destinos forti, destinos fracos, destinos fracos, destinos fracos. Nun ha altro camino. Home fort, destin fort, les hommes faibles, destin faible, il n'y a pas d'autre moyen. Uomini forti, destini forti, uomini deboli, destini deboli, non c'è altra strana. Uomini forti, destini forti, uomini deboli, destini deboli, non c'è altra strana. Non è nelle stelle che è conservato il nostro destino, ma in noi stessi. Uomini forti, destini forti, uomini deboli, destini deboli, non c'è altra strana. Uomini forti, destini forti, uomini deboli, non c'è altra strana. Nelleheiro Raza è un grazie clara che attraverso la reventura perché per la nostra parte è un termine attraverso la disciplina o la 정azione. La relazione è un signor, il sottotitico, è elevato il 12 minuto, non si va av Hus nomi 12 minuta in inglese, e si rigevano come si tratta e si dettano quello che è stato cazzo, e quindi la verità non sbagliato e facciammo tutti, almeno tutte le lezioni dell'angertifismo moravano attraverso i fan e l'angertifismo e sono venuti a vedere, e poi hanno trovato i fani di film, per il colletto. Quindi, ricorda che l'ha mai fatto con lui, e poi ci sono tutti i miei amici. Questa è l'esame, io per la 6 e lei, con questo, io gli ho detto, e mi sento la mia professione, non so che la mia professione, non so, ma io gli ho detto. Non so che vi ho detto, non so, ma abbiamo fatto una cosa, ma tutti i miei amici, e facendo un po' di più e di più e di più non è nelle stelle che è conservato il nostro destino ma in noi stessi e di più 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 è bello e di più e di più e di più Poi c'è un'attacco da Khanh, qui si tratta di un'attacco interno per un'attacco di 6 ore e inoltre ho preso prima le mie conferenze, quando noi c'è un'attacco di riferimento e non tutto quello che è una cosa. E' una cosa, quando avrei avuto un attacco, che poi si tratta di un'attacco di riferimento ... Se ricordo che mi sono riuscito a vedere adesso io li spoglio a te un po' di riuscire.... e vada... e vada... e vada! Grazie Mett принимando a vivere, facendo vi embassy, mi sono assolutamente, non stiamo, non stiamo, e non stiamo, non stiamo, sono stiamo facendo un po' di noi, siamo portati a vivere con un'altra parte, ci siamo passate in una serie di soluzioni, che sono scelte che abbiamo fatto un po' di spiaggia, un po' di spiaggia, un po', ripeti, in un paio che è un po', facciamo sempre fare questo, gesto team in personale ci si mette insomma un suddito sui soldi cendolo sui osc se e che vanno con i soni sono non si non si as As you tomorrow.